Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi con il post partita di Venezia Spezia 90, 90 e 30 secondi 1 a 0 Venezia Parto col dire una cosa, bellissima partita Complimenti ad ambo le squadre per il tipo di calcio offerto Per la qualità messa in campo Ho tanti giocatori che nei prossimi anni potremo vedere anche in palcoscenici più grandi Magari tanti anche in Serie A Voglio fare questa premessa perché a vedere questa partita mi sono divertito tantissimo Da passato dalla Serie B, tante occasioni e adesso ne parliamo Mi raccomando però, prima di partire col video devo chiedere un pollicione su qua sotto 30, 40, 50 mi piace qua sotto Un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi Mi raccomando, iscrivetevi e noi partiamo subito Partiamo col dirvi che lo Spezia fa un grandissimo primo tempo Fa un grande primo tempo di gestione di possesso Di anche occasioni, ha avuto qualche grande potenzione di occasioni Credo che lo Spezia ha un grande problema Che non ha trovato ancora un giocatore capace di buttare la palla in porta Nelle occasioni più nitide che capitano in una squadra Perché lo Spezia comunque è una squadra che prova a giocare a calcio È una squadra che ha un'idea di gioco Alvini ha dato un'impronta a questa squadra Ma è evidente che affronti un momento di difficoltà importante Perché se perde questo sono un punto in quattro partite Fatto inizio il campionato contro il Subtirol per 3-3 a Bolzano Da lì in poi tre sconfitte consecutive Dove servire questa visto che mancano ormai solo più tre minuti alla fine della partita Ma lo Spezia comunque qualche segnale a livello di prestazione Lo ha dato anche quest'oggi Ma è evidente il problema di trovare qualcuno che butti la palla in porta Perché Luca Mori in questo momento sta deludendo un po' le aspettative Ha avuto un buon impatto con lo Spezia Soprattutto dal primo campionato contro il Subtirol Ma poi si è già un po' perso Lo Spezia non trova dagli esterni i gol che potrebbero arrivare come Daco Mantonucci Che oggi ha avuto una grande occasione Solo per poco è usciuta la palla Dallo stesso Daniele Verde che può essere una carta in più se sfruttata meglio E dallo stesso ragazzi più esposito a gara in corso Da Krollis che può essere un giocatore interessante Lo Spezia veramente ha tanti giocatori interessanti Però è evidente che quando poi inizia a fare un punto in tre partite Adesso può diventare un punto in quattro partite Il morale scende, ti demoralizzi Il lavoro magari sembra tutto negativo Ma da esterno dico che quest'oggi lo Spezia ha fatto una prestazione importante Molto più positiva rispetto a quella che aveva fatto contro il Como Giocando in casa tra virgolette a Cesena nella partita prima della sosta Andando al Venezia Il Venezia che mi è piaciuto molto Un Venezia concreto, solido Che ha comunque sofferto la qualità tecnica messa in campo dallo Spezia Ma che col solito Joel Pojan Paolo riesce quantomeno a vincere questa partita Non quantomeno riesce a vincere questa partita Facendo una partita diversa Magari dal solito più di attese di contropiede Ma contropiede sfruttati bene Mi viene in mente il palo di Buso Prima del gol di Pojan Paolo Mi viene in mente ragazzi l'occasione Anche del primo tempo Qualche occasione interessante l'ha avuta il Venezia Anche se devo dire che al primo tempo Lo Spezia avrebbe meritato forza di fare un gol Ma diciamo che alla fine nel complesso il pareggio Sarebbe il risultato più giusto di questa partita Ma quando una squadra come il Venezia Si può permettere un capo caninere come Pojan Paolo l'anno scorso E un secondo capo caninere Perché l'anno scorso è arrivato l'Apadu Primo per Reti Ma Pojan Paolo che ha fatto 19 gol Quest'anno integri anche Gitker in questa rosa E' chiaro che poi davanti non hai troppi problemi su chi può fare gol Infatti il Venezia ha la minima grande occasione Riesce a buttare il polano in porta e vincere questa partita Magari soffrendo più del dovuto Ma di fronte a ragazzi con una squadra forte Tecnica come lo Spezia Che comunque oggi ha fatto una prestazione di ribalsa Di voglia nel cercare di vincere questa partita Ma non c'è riuscita fino a questo momento Perché il Venezia di fronte Il Venezia ha messo in campo tenacia Tecnica Ha messo in campo quantità E lo spirito di una squadra che vuole ambire a fare cose grandissime La partita finita in questo momento 1-0 per il Venezia Decide Io e poi a un palo Con un bel gol di ribattuta No diciamo Un bel gol dopo il palo di Buso Gol che si insacca sotto la rete Sotto la traversa E firma per l'appunto L'1-0 decisivo per la squadra di Vanoli Che va in questo momento A se non sbaglio 11 o 10 punti Lo Spezia ragazzi Rimane per l'appunto A un solo punto In 4 partite Il Venezia in questo momento È primo in classifica A quota 11 punti Aspettando il big match di domani Catanzaro Parma Che ci dirà tantissime cose Anche con la partita Pollicione sul video Iscrizione al canale Noi ci obbichiamo Un prossimo video Bella ragazzi Alla prossimo video